Ci sei? Ok, grazie. Allora, eccoci, oggi è domenica 28 giugno e cominciamo questa rassegna stampa domenicale che in qualche modo chiude questo ciclo che abbiamo cominciato oramai un po' di tempo fa, che come sanno molti che seguono questo spazio, abbiamo cominciato sulla piattaforma di Iscritti a Parlare nel mese di marzo. La prima rassegna che abbiamo fatto è stata nel primo giorno di primavera, il 21 di marzo, e oggi chiudiamo questo ciclo in questa seconda domenica d'estate e poi a settembre vedremo, magari chissà, riprenderemo. Intanto in queste settimane, in queste anche tante settimane, in questi mesi abbiamo attraversato tutta la vicenda complicatissima e molto dolorosa per il gran numero di ammalati e anche purtroppo di decessi dell'emergenza epidemiologica, dell'emergenza sanitaria, insomma tutti noi siamo stati messi a dura prova da questi mesi, ma tutti noi e anche naturalmente il nostro paese, con tensioni molto forti che sono adesso ancora sotto traccia e però sappiamo in realtà si scaricheranno tutte, non solo in quest'estate che sarà un'estate molto complicata perché insieme alla voglia di ripartire, insieme alla voglia di lasciarci tutti quanti alle spalle l'ansia di giornate troppo lunghe, c'è però la preoccupazione per una crisi economica che soprattutto nei mesi autunnali si scaricherà enormemente sulla capacità della nostra economia di ripartire, penso in particolare alle migliaia di persone che fanno un lavoro autonomo, che hanno un lavoro precario, intermittente, che hanno una partita IVA, alle migliaia di persone per me che vengo da un territorio manifatturiero, da un territorio artigiano, le migliaia di persone che mandano un'impresa ogni giorno dovendosi reinventare, inventando una strategia per conquistare mercati e che di colpo in questi mesi si sono visti davvero crollare un mondo che era stato faticosamente conquistato e quindi il tema per chi come me, per chi come noi ha degli incarichi istituzionali, degli incarichi politici, è innanzitutto dar voce a coloro che maggiormente stanno pagando questa crisi, una crisi che tra l'altro ha squadernato tutti i punti di attrito, di malfunzionamento di un sistema il nostro che sappiamo già da molto prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria e anche da prima che scoppiasse la crisi del 2008 era però malato di troppe ingiustizie, di troppe disparità, di troppe diseguaglianze e tra l'altro voglio dire in questa rassegna che appunto chiude questo ciclo forse la frase più politica che racchiude la natura di questa crisi e anche che racchiude il senso, l'intelligenza politica, l'iniziativa politica, le cose da fare per uscire dalla crisi, le ha dette papa Bergoglio, papa Francesco in una sua riflessione quando ha ammonito tutti noi dall'impossibilità di vivere sani in un mondo malato e il mondo malato è quello appunto di un'economia che funziona a rovescio, che in questi anni la politica non ha saputo governare permettendo appunto la concentrazione di ricchezze, il compito sempre più nelle mani di pochi permettendo anche una enorme speculazione finanziaria e il compito della politica è invece innanzitutto redistribuire le risorse, redistribuire le opportunità, redistribuire quindi il potere e non solo proteggere ma mettere chi è maggiormente in difficoltà nella condizione di essere protagonista. La crisi racconta questo, di questi squilibri e per noi l'autunno significa invece riuscire a mettere in campo misure concretissime da subito in realtà perché vanno programmate da subito già in queste settimane estive per appunto uno sviluppo che sia fondato finalmente sul contrasto alle diseguaglianze e sul sostegno a chi invece è maggiormente in difficoltà. Però partiamo, se riusciamo, se mi riesce di aprire anche questi aggeggi tecnologici dove ho segnato qualche, ecco un po' di filo conduttore. Ecco partiamo, dicevo, in questa nostra rassegna stampa che vede oggi in questa domenica di 28 giugno i giornali più importanti, aprire anche con titoli diversi, ma partiamo anche con un articolo di avvenire che racchiude, visto che oggi insomma è l'ultima rassegna di questo ciclo, che racchiude anche un po' il riassunto della vicenda che riguarda innanzitutto l'emergenza sanitaria che ci ha indotto in quei giorni, in quei primissimi giorni del cosiddetto lockdown di chiusura, quando lo smarrimento era enorme e tuttora è ancora grande, a inventarci questo luogo, questa piattaforma, iscritti a parlare e a inventarci anche questo modo di scambiarci idee, opinioni, interventi, pensiero. E dice avvenire, ci racconta quella che è la statistica sull'epidemia e dice appunto avvenire, i contagi e i morti sono ai minimi nel nostro paese, ma nel mondo siamo al picco dell'epidemia. Ecco questo è un tema perché anche oggi torna sui giornali un tema che in realtà conosciamo perché ne parlano tutti i talk mediatici, televisivi, cioè il rischio sull'autunno, quindi capire quanto l'autunno con il ritorno anche di un clima più freddo che normalmente porta tra l'altro porta al contagio influenzale, possa far riesplodere nuovamente questo virus che per certi versi ha una natura molto difficile da decifrare nella sua dinamica e ci sono allarmi di molti scienziati appunto su, l'avrete letto anche ieri, su un rischio per il prossimo autunno, ma questo lo sappiamo, sappiamo che stiamo facendo i conti con questo virus, ma che il virus circola. Ci sono tra l'altro anche notizie di cronaca su vari focolai in diverse città italiane, molto concentrate per la verità, ma che comunque naturalmente preoccupano. Dice avvenire, sono 8 le vittime di Covid ieri in Italia e 175 i contagi, è un dato ai minimi dall'inizio di marzo, ma le cifre confortanti nel nostro paese si contrappongono all'esplosione di malati e di vittime nel mondo vicine ai 500.000 morti e ci sono dei grafici assolutamente impressionanti che mostrano quanto il Covid sia di gran lunga diventato in pochissime settimane la prima causa di mortalità superiore a tutto il resto nel mondo e quindi questo dovrebbe silenziare le idiozie invece dei negazionisti che purtroppo alimentano tante pagine web e che portano tra l'altro ad alimentare tutta una polemica antivaccinista assolutamente pazzesca dopo mesi così drammatici che abbiamo vissuto con così tante vittime nel mondo e nel nostro paese, tra l'altro vittime e morti come sappiamo nell'atrocità della distanza, del non poter affiancare appunto i malati e non poter stare a fianco a chi in realtà poi... Negli Stati Uniti c'è un record di nuovi casi, 45.000 in un solo giorno, in altre parti del mondo, il Brasile, l'India, ne abbiamo spesso parlato in queste settimane di rassegna stampa e il numero totale appunto sfiora nel mondo gli oltre 250.000 morti abbiamo detto e scusate le oltre 500.000 vittime abbiamo detto, in Italia invece i casi sono poco sopra i 240.000, per l'esertezza 240.000, 136 dall'inizio dell'epidemia solamente in Italia con ieri un numero per fortuna finalmente tra i più bassi da quando è cominciata la statistica tra le regioni sempre in testa della Lombardia con 77 nuovi casi e seguita dall'Emilia Romagna e naturalmente ci si interroga poi sui sintomatici, sui presintomatici, sugli asintomatici, su coloro che sono positivi, su coloro che sono debolmente positivi. Ma veniamo subito però dopo aver aperto su quella che è la situazione che riguarda appunto l'epidemia, vediamo invece alle questioni più politiche che riguardano tanti fronti, tanti fronti che oggi cercheremo come abbiamo fatto sempre in queste settimane di tenere insieme. C'è un fronte intanto che come sappiamo è sempre quello dell'Europa, l'Europa che, e questo è un successo per la nostra politica, è un successo per l'Italia indubbiamente e anche per lo schieramento dei democratici e dei socialisti a livello europeo, un'Europa che inizialmente molto in difficoltà, incapace di scuotersi, poi però finalmente ha capito di essere di fronte ad una crisi che avrebbe potuto spazzarla via e con l'Europa, aggiungo io, avrebbe potuto spazzare via le nostre democrazie e un'Europa che quindi finalmente ha capito che le ragioni fondative stanno fondamentalmente nella capacità appunto di costruire comunità, di redistribuire diritti e il primo diritto della cittadinanza è quello a star bene, è quello a potersi curare, il diritto appunto alla salute e alla vita e il diritto ad avere una istruzione in un tempo appunto in cui le scuole sono state chiusi, il diritto ad avere un lavoro, a poter fare imprese in un momento in cui tutto questo viene messo a rischio dal blocco che impedisce il commercio, impedisce la domanda, impedisce quindi acquisti, esportazioni, offerte. Il 17 luglio ci sarà finalmente il Consiglio europeo sul cosiddetto Recovery Fund Next Generation, insomma il piano per il rilancio, dove dovranno essere stanziati 750 miliardi, alcuni a fondo perduto, alcuni a tassi di debito assolutamente inferiori allo zero e vantaggiosi, così come è molto vantaggiosa la linea che si è aperta per la sanità, per investire in nuovo personale sanitario, per investire in nuove strutture sanitarie, per investire su quella medicina territoriale e di base il cui smantellamento è una causa del fallimento politico in Lombardia e non solo in Lombardia, con tutto quello che ne è conseguito per il nostro Paese. Quella linea di credito cosiddetta MES, cioè legata al Fondo salva stati su cui c'è ancora un dibattito e su cui in maniera assolutamente irragionevole i 5 Stelle continuano a voler prendere tempo, assecondati a mio avviso in maniera sbagliata dal Presidente del Consiglio perché tergiversare su questi investimenti per la sanità potrebbe causare un ritardo enorme in un momento in cui a settembre, a ottobre noi invece possiamo già di essere pronti avendo già utilizzato investimenti come i 36 miliardi che l'Europa mette a disposizione senza condizionalità, quindi senza avere ripercussioni su quelle che sono le nostre autonome decisioni di bilancio. Però appunto Conte, e questo ce lo dicono i giornali anche oggi, vuole invece rimandare la scelta a settembre. C'è un dibattito su questo, una scelta che invece a mio avviso noi dobbiamo fare molto presto per programmare quelle iniziative strategiche che sono fondate sugli investimenti. Sappiamo che dal primo di luglio sarà la Germania a presiedere il semestre europeo e sappiamo che la Merkel, sono pieni i giornali di ieri ma anche di oggi in qualche modo di un suo... Sappiamo che la Merkel molto, in realtà, devo dire con lungimiranza, si sta spendendo la propria autorevolezza politica in maniera simile secondo me a quanto fece nel 2015, nei giorni della crisi migratoria, ricorderete dei migranti che venivano attraversando l'Anatolia via terra dalla Siria e decise Angela Merkel di aprire la Germania a oltre un milione, tutto insieme, di richiedenti asilo che venivano fondamentalmente dalla Siria, dimostrando una grande capacità di direzione politica e di autorevolezza e volendo schierare la Germania appunto dalla parte della solidarietà, dando un segnale molto forte non solo a tutta l'Europa ma anche a quello scacchiere medio-orientale, mediterraneo all'Unione africana che è decisiva per l'Unione europea. Oggi in qualche modo la Merkel fa lo stesso investendo gran parte della sua autorevolezza su la sospensione del fiscal compact e quindi di uno degli architravi del trattato di Maastricht che però hanno causato molti problemi, tant'è che noi in questi anni abbiamo chiesto di rivedere quei trattati che hanno impedito all'Europa di rispondere appunto alle sue ragioni fondative, cioè investire in lavoro, investire in welfare, investire in protezione ed emancipazione sociale, che è quello le cui finalità stanno scritte nel cosiddetto recovery fund, ma sappiamo che c'è l'opposizione di alcuni paesi del nord Europa. Tutte queste cose oggi si tengono in diversi articoli, io ne voglio citare uno perché riassume anche alcuni temi vissuti nella settimana scorsa ed è quello del direttore della stampa Massimo Giannini che nel suo editoriale che scrive ogni domenica parte da un tema, da un problema molto serio che abbiamo nel nostro paese, cioè il fatto che l'Italia ancora prima di questa crisi in realtà cresceva molto meno rispetto agli altri paesi europei e tra questi sicuramente molto meno rispetto alla Germania. E sulla mancanza di produttività dell'Italia c'è tra l'altro un approfondimento molto interessante sull'espresso che non vi posso citare ma che vi voglio segnalare. Negli ultimi dieci anni l'Italia è cresciuta in media dello 0,2% all'anno, mentre la Germania cresceva del 2%. E poi Giannini a un certo punto prende di petto il Presidente del Consiglio e rivolgendosi al Presidente del Consiglio scrive Da cittadini, signor Presidente, ci permetta di riassumere cosa abbiamo visto in questa ultima decade. Dopo il cura Italia e il rilancio Italia, totale 80 miliardi, è lo scostamento di bilancio che è stato effettuato per poter coprire le spese di questi due decreti, si profira all'orizzonte un altro decreto che disporrà altri 20 miliardi di spese in deficit. Stiamo tuttora affogando nell'emergenza e tra nuova cassa integrazione e fondi per gli enti locali c'è ancora enorme bisogno della rete di sicurezza pubblica. In quest'ultima settimana tra le tante che ogni giorno agitano nel Paese ci hanno scosso tre piazze in rivolta. Parto da questo articolo perché appunto queste tre piazze sono fondamentali per capire anche la questione sociale che è stato il filo conduttore di tutte queste nostre rassegne in queste domeniche e che è il filo conduttore tra l'altro di una nostra iniziativa politica. L'enormità della questione sociale, quella che ci trascinavamo, quella che appunto ci ha resi deboli e anche assolutamente impreparati di fronte a questa crisi. Io comunque lo voglio ricordare, il nostro è uno dei Paesi che ha pagato di più nei confronti della crisi in termini di contagi, in termini di decessi e questo è un tema comunque che c'è. Tre piazze in rivolta, lo sdegno delle tute blu in mascherina rossa per i 150 dissesti industriali. La protesta degli operatori della scuola contro le linee guida della Zolina, e la scuola è uno dei punti su cui proprio noi più abbiamo fatto iniziativa politica denunciando il ritardo del nostro governo, denunciando la mancanza di finanziamenti, denunciando gli errori, denunciando quanto il decreto scuola sia stata un'occasione persa malamente per stabilizzare i precari, per ripensare la scuola. Abbiamo lanciato noi la richiesta che si faccia, così come si sta facendo in Spagna, cioè abbassare nelle nostre classi il numero degli alunni portandoli a 20, aumentando invece gli organici, il numero dei docenti per permettere non solo la sicurezza, la continuità didattica, ma una didattica inclusiva che aiuti quelli che più hanno pagato questi mesi di blocco, cioè i ragazzi delle famiglie più in difficoltà che sono a rischio di dispersione e abbandono scolastico, i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali, i ragazzi che hanno delle disabilità, tutto questo è un'enormità che non riguarda i singoli, riguarda il nostro paese e il tema del ritorno a scuola a settembre non è solamente un tema di sicurezza e di distanziamento e di evitare il contagio, ma è un tema di come recuperare una mole di ritardo di apprendimento, di mancato apprendimento che è un macigno enorme sul futuro di intere generazioni. La terza tra le manifestazioni è quella appunto che Giannini chiama guerriglia, tra autoctoni arrabbiati e stranieri disperati a Mondragone, e lo vedremo poi grida di rabbia e di dolore, è chi di una stagione feroce in cui, come scrive Marco Revelli, nessuno si salva da solo. Ma al di là della stretta congiuntura stiamo progettando una credibile exit strategi da questa fase necessaria di economia, assicurando un serio programma di riforme strutturali che di qui all'autunno ci consenta di trasformare la calamità in opportunità, purtroppo no. È la risposta che dà il direttore della stampa, ma è un tema in realtà che ci riguarda tutti e è un tema che anche noi stiamo reclamando nei confronti del governo e anche quando chiediamo al Partito Democratico di farsi protagonista di un'iniziativa che sia maggiormente incalzante rispetto alla mancanza di una strategia che da ritardo rischia di diventare poi fallimento, non solo politico per noi che comunque governiamo e siamo la forza che deve farsi carico dell'ansia di chi non ce la fa, ma per l'intero nostro Paese. Torniamo a quella crisi esistenziale delle nostre democrazie sotto l'attacco di questa emergenza, ma in realtà sotto l'attacco da troppi anni di politiche sbagliate che anche noi troppo spesso abbiamo per debolezza avallato. Gli stati generali sono già materia da semiologi, come allegoria del parlare d'altro in tempi di lunga depressione, il decreto semplificazione è già al secondo mese di rinvii, senza una motivazione plausibile che non sia la resistenza del burosauro amministrativo. Dunque, caro Presidente, cosa resta di tanta potenza di fuoco sempre annunciata ma poco realizzata? Si chiede appunto Giannini, che abbiamo letto solo in alcuni passaggi, perché in realtà dobbiamo procedere e in questa nostra traccia che vuole naturalmente raccontare il senso di un ragionamento politico, l'articolo a cui voglio mettere in fila è quello principale dell'Espresso che oggi ne dicola e anche qui è quello firmato dal direttore dell'Espresso, Marco da Milano, c'è una vignetta di Marco Biani, perché l'articolo da Milano oggi è dedicato al referendum, è un articolo politicamente molto rilevante, tra l'altro è l'articolo che schiera l'Espresso a favore del no al referendum sul taglio dei parlamentari, quindi un endorsement molto importante, pesante. Certo, oramai viviamo la crisi della carta stampata e una crisi che riguarda tutti e che naturalmente riguarda con i principali giornali anche l'Espresso, ma è comunque un endorsement importante quello che l'Espresso fa per il no sul referendum sul taglio dei parlamentari e questo articolo di da Milano in realtà si apre con una vignetta di Marco Biani, illustratore politico formidabile devo dire e ci sono due uomini in realtà senza faccia, il primo in grisaglie che declama la democrazia costa troppo, il secondo invece dice togliendosi la giacca e la cravatta appunto ci ricorda qualcosa questo togliersi giacca e cravatta, dice allora se costa troppo riduciamola ad applausi. e dice da Milano, la vignetta di Biani dice tutto insomma, però leggiamo da Milano straniante, stralunata l'esperienza di un paesaggio conosciuto eppure all'improvviso deformato, qualcosa di familiare ma che non si mette più a fuoco e in dissolvenza, una lenta caduta come nei sogni. Prende a presito questa immagine di Leonardo Sciascia per descrivere lo stato dell'istituzione centrale della nostra democrazia. Il Parlamento nella nostra Costituzione è il cuore del sistema democratico e infatti è stato l'oggetto di ogni tentativo di riforma degli ultimi 30-40 anni. Ora ci risiamo, se non ci fosse stato il Covid avremmo già votato per il referendum che ha chiamato a confermare o meno la legge costituzionale di nove mesi fa che ha tagliato il numero dei parlamentari. Un taglio al quale io convintamente per due volte ho votato no in Senato perché in realtà penso che il nostro paese abbia bisogno di rappresentanza. È comunque una riforma, quella strumentale che oggi con il cambio di governo in realtà viene messa dentro un'altra cornice e questo lo devo dire. Infatti io penso che il giudizio sul referendum vada dato in base anche alla possibilità o meno di avere prima del voto incardinata una legge elettorale che salvaguardi la rappresentanza che quindi sia proporzionale perché altrimenti in mancanza di questo è chiaro che questo sarebbe un referendum disastroso che andrebbe a colpire in mancanza appunto di una legge elettorale di riequilibrio quella che è la rappresentanza non solo politica ma anche di territori, penso alle aree interne, quelle più marginali che hanno bisogno di avere invece voce in Parlamento. E qui chiudo la mia parentesi e riapriamo invece quella di Damirano. La consultazione è stata spostata a causa dell'epidemia e fissata per il 20 settembre, nessuno sembra avere interesse fino a questo momento e se ne capisce il motivo, un referendum che taglia i parlamentari fa fronte, dice Damirano, appunto con la solita retorica contro la politica, sostenitore del taglio primi fra tutti, capia il Movimento 5 Stelle che sono sicuri della vittoria e con ottimi ragioni della riduzione parlamentare, si parla da decenni, poi c'è la più che decennale polemica contro la casta, oggi ripresa dalla nuova casta costituita anche dagli ex grillini, dice Damirano e poi su questo vedremo in realtà un articolo di Panerari, ancora sull'Espresso, gli esponenti della nuova nomenclatura, appunto gli ex grillini che occupa, lottizza, spartisce il potere in Rai, negli enti pubblici, nei ministeri, nelle burocrazie, famelici quanto i predecessori. Sembra il tempo giusto per le forbici brandite da Luigi Di Maio, il taglio dei parlamentari, ma è un falso, questo è il tempo sbagliato e per questo bisogna parlarne fin da ora, perché l'anno del Covid ha consegnato all'Occidente e all'Italia due emergenze visibili, ferite e pulsanti e sanguinose. La prima è l'emergenza sanitaria, i quasi 35.000 morti, un bilancio spaventoso, la seconda si chiama emergenza economica in cui siamo completamente immersi, il blocco dei consumi, il commercio che non riparte, le imprese costrette a chiudere, i lavoratori in cassa integrazione e mobilità, l'allarme sociale in vista di un autunno carico di incognite, le cose appunto su cui ci siamo soffermati all'inizio nell'introdurre questa rassegna. La terza emergenza, meno evidente ma altrettanto pericolosa, riguarda lo stato delle nostre istituzioni e della nostra democrazia, l'aria che stiamo respirando, asfittica, intassata dai veleni, il potere legislativo è percorso da un senso di inutilità. Resta in piedi il potere esecutivo, il governo presiduto dall'avvocato Giuseppe Conte più che decidere appare, più che guidare se è senato dall'esigenza di dare l'impressione di farlo, più che affrontare le questioni le contempla e soprattutto contempla se stesso nel ruolo di colui che ascolta e che decide. Questo articolo di Da Milano che vi abbiamo letto solamente in parte, in cui c'è appunto questo schierare l'espresso contro il taglio dei parlamentari con una motivazione che si fonda su quanto, e lo abbiamo detto in molti di questi nostri appuntamenti, questo blocco ha evidenziato in realtà come la nostra democrazia non può sopravvivere troppo a lungo ad uno stato di eccezione che mette in mora le nostre libertà civili la possibilità di manifestare ad esempio o addirittura che mette in mora il protagonismo del Parlamento nei confronti del potere esecutivo. La nostra è una Repubblica parlamentare, eppure questo rischio c'è stato, non solo legato alla decretazione d'urgenza, alla fiducia che per lunghe settimane all'inizio di questa emergenza è stato lo strumento utilizzato molto più che nei mesi precedenti quando già l'uso era abnorme, ma l'uso assolutamente sopra le righe dell'uso dei decreti amministrativi, così dei DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio, che noi abbiamo chiesto appunto rientrino sempre in una cornice legislativa e quindi in una cornice parlamentare, su questo ricorderete il dibattito, ma questo dibattito è ancora molto aperto e lo vediamo perché oggi in realtà in una domenica strana, in cui più che strana diciamo è abbastanza normale che nelle domeniche estive, e siamo già appunto oramai in piena estate, i giornali si alleggeriscano e siano anche meno gli articoli di cronaca o di attualità e di più magari quelli di approfondimento che appunto vengono scritti poi durante la settimana. Ma dicevo l'articolo di Damilano è integrato da un pezzo di Emiliano Brancaccio molto importante perché lega la polemica contro il parlamentarismo, perché poi qual è l'altro rischio che c'è non solo in questo referendum, ma nell'uso del referendum hanno fatto le forze che hanno sostenuto il primo governo Conte, 5 Stelle e Lega, ma soprattutto i 5 Stelle, c'è una polemica contro il Parlamento, ma il Parlamento rappresenta tutti gli italiani, ma ce le ricordiamo quelle immagini vergognose secondo me di tutti i parlamentari 5 Stelle, tra cui adesso ce ne sono alcuni che stanno nel governo che noi sosteniamo, penso al Ministro dei Rapporti col Parlamento, ad esempio che campeggia nella foto dei parlamentari 5 Stelle che festeggiano l'approvazione del taglio dei parlamentari con uno striscione enorme, come con una forbice che taglia delle poltrone. Questa è una ritorica sinceramente che fa ribrezzo, quelle non sono poltrone, quelle in realtà sono voci di pezzi di territorio, sono voci di comunità di cittadini, è veramente vergognoso che ci sia una forza politica che appunto si approccia a questo tema non con la lungimiranza di una riforma complessiva, dentro la quale certo si discute del taglio dei parlamentari, è giusto farlo, nella scorsa legislatura noi abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, ma dentro una riforma complessiva che ragionava su un Senato delle comunità regionali, delle comunità territoriali, che rivedeva le funzioni dei parlamentari che soprattutto arrivava di fatto ad un superamento di alcune funzioni del bicameralismo. Utilizzare il taglio dei parlamentari come oggetto contundente per alimentare la polemica contro le istituzioni è qualcosa di inaccettabile dal mio punto di vista, che tra l'altro si ritorce sempre contro chi la agita e mi pare che infatti coloro che hanno fatto la loro fortuna politica sulla polemica contro la casta, oggi che sono al governo i più strenui difensori del palazzo non siano più molto credibili e mi pare che l'opinione nel paese sia oramai questa. Ma insomma sapete che io penso che PD e 5 Stelle stiano al governo in questa fase ed è giusto che siano al governo insieme per mettere in sicurezza per il nostro paese, per evitare ad una destra pericolosissima quella di Salvini, figuriamoci se avesse governato Salvini la milioni durante questa crisi, appunto per evitare tutto questo è un bene che ci sia questo nostro governo ma io penso che sia un governo non strategico, non che da perpetuare ma che invece ci voglia una legge proporzionale che dia modo a ogni forza di guadagnare il proprio consenso e al partito democratico di ricostruire un grande campo di centrosinistra che dal mio punto di vista è alternativo ai 5 Stelle per le ragioni appunto che riguardano anche la concezione della democrazia che è molto diversa tra quella che abbiamo noi democratici e quella appunto che dimostrano i 5 Stelle. Comunque mi sono un po' dilungato e tutte queste considerazioni che mi vengono in mente perché c'è questo articolo sull'Espresso di Emiliano Brancaccio che le sottolinea e dice un alibi ingegnoso, quello del taglio dei parlamentari, per colpire chi ha meno e appunto torna in mente la vignetta di Biani con l'uomo in grisaglie che dice beh la democrazia ci costa troppo, voglio vedere quanto ci costa invece fare a meno della democrazia. C'era un motto famoso che diceva se pensate che la cultura costi troppo, l'istruzione costi troppo provate a vedere quanto costa invece l'ignoranza appunto. Dice Emiliano Brancaccio meno di un euro, nemmeno un caffè all'anno e questo è il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum e lo sappiamo. Iniziate una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi o tutte le cose che ho detto naturalmente, permettetemi di aprire un'altra parentesi, naturalmente sono al netto di una critica che io stesso ho sempre fatto e continuo a fare verso un atteggiamento di una certa classe politica appunto assolutamente negativo che ha portato in questi anni ad alimentare. e che vanno abbattuti, ma quelli vanno abbattuti, non va abbattuto il parlamentarismo, vanno abbattuti i privilegi, le disfunzioni che sono legate appunto ad un uso distorto della funzione parlamentare. Questa è la battaglia da fare, dobbiamo ridurre lo stipendio dei parlamentari, riduciamo lo stipendio dei parlamentari, ma attenzione invece a ridurre la rappresentanza che è la voce delle comunità territoriali. Da questo punto di vista le cose sono assolutamente differenti, così come quelli che durante questa crisi hanno detto, ognuno di noi hanno detto diamo una parte dello stipendio per l'emergenza, diamola certamente una parte dello stipendio per l'emergenza, ognuno di noi parlamentari del Partito Democratico ha devoluto una parte della sua mensilità per la protezione civile. Ma il tema politico è un altro, mettiamo a tema una riforma della fiscalità che faccia in modo che chi ha di più i patrimoni milionari diano di più e contribuiscano quindi alla fiscalità generale, ma è come è giusto fare questo tema per cui è un tabù nel nostro Paese parlare di patrimoniale. Attenzione, la tassazione sui patrimoni è molto diversa dalla tassazione sui redditi, perché i redditi sono legati allo sviluppo, invece il patrimonio è legato alla rendita e quindi il tema di tassare le rendite è un tema molto importante per la sinistra da sempre e in una crisi che aguisce le ingiustizie come questa penso che sia un tema di cui noi non dobbiamo avere paura di affrontare. Ma torniamo a questo articolo, altrimenti diventa molto tardi. In origine la crociata, dicevo, poteva rivendicare risparmi un po' più consistenti come la stretta di 700 milioni sulle famigirate auto blu, tra l'altro ricorderete che col governo Conte 1, ai tempi di Salvini e Di Maio, questa stretta sulle auto blu non è mai esistita, ricorderete, la commessa sul nuovo parco auto. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino, dall'annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni, ma a ben guardare nemmeno ai suoi sordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale, una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma. Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di contro un ceto politico reputato inetto e distante, ecco il tema vero è prendersela quando c'è un ceto politico inetto che fa politiche sbagliate, ecco quelli sono i soldi buttati quando tu hai dei parlamentari che fanno politiche sbagliate, ecco quello sì, non solo sono buttati ma sono anche dannosi e pericolosi. Ma allora perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto, la verità è che la stretta sulle poltrone dell'odiata casta politica sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all'istruzione, alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l'odiato parlamentare alla questua ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti. Le rivalse anticasta vanno quindi valutate per quel che sono un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. E mi pare appunto che questo articolo davvero dovesse essere letto, perché mi pare molto importante questo tema di come in questa emergenza ci siamo portati dietro una crisi molto forte della democrazia e anche del parlamentarismo viene sottolineato oggi da un articolo di Luciano Violante su Repubblica, il Parlamento depotenziato. Ecco, tutto torna in questa lettura che stiamo cercando di fare, quanto rischiamo con la crisi della rappresentanza politica. Luciano Violante parte però da una questione in realtà sensibile, che non possiamo far a meno di leggere e alla quale dobbiamo stare attenti, perché è successo che è stata inserita una norma in un atto nei giorni scorsi che in realtà fa discutere e sulla quale dobbiamo intervenire, io penso, perché porta con sé molti rischi e lo dice Luciano Violante. Il ministro delle comunità, il proprio atto amministrativo, è di dare discrezionalmente risorse da una all'altra finalità del decreto, rilancio il decreto che è attualmente in conversione in Parlamento alla Camera per la precisione. Non sappiamo quando arriverà in aula, non sappiamo neanche se potremo fare una lettura in Senato, cioè se potremo in Senato modificarlo. Anche questo è pazzesco oramai, nonostante noi viviamo in un sistema di bicameralismo perfetto, ma non c'è verso di fare una doppia lettura, cioè non c'è verso di riuscire a fare in modo che i senatori e i deputati lavorino entrambi sui singoli provvedimenti, o lavorano gli uni o lavorano gli altri, ma questo è un problema per la nostra democrazia, per il funzionamento del nostro Parlamento ed è un problema per il lavoro che ogni parlamentare deve poter fare per appunto dar voce a chi rappresenta, a chi cerca di rappresentare. Non solo territori naturalmente, prima dei territori i ceti sociali, una visione politica, un insieme di valori che corrisponde a ceti sociali dal mio punto di vista. Questo decreto riguarda quasi tutto, la salute, il sostegno al lavoro e all'economia, tutte le politiche sociali connesse al Covid, pertanto il governo, dice Luciano Violante, si è autoattribuito poteri di decisione sul bilancio che spetterebbero invece al Parlamento. Si è impegnato ad acquisire il parere non vincolante, non vincolante, delle commissioni parlamentari. La stessa cosa è accaduta alcune settimane fa per i DPCM, appunto gli atti amministrativi, di cui dicevo, vi ricordate, i moduli, quelle pazzesche autocertificazioni che cambiavano continuamente nelle settimane del lockdown, erano tutte frutte dei famosi DPCM. E ci ricordiamo anche tutte le conferenze stampa del Presidente Conte, alcune verso l'ora di cena, alcune anche alle due di notte. La sostanza non cambia, quei poteri restano in capo al governo e per di più, scusate, vengono indirettamente riconosciuti dal Parlamento che ridimensiona se stesso al rango di consulente dell'esecutivo. Si tratta degli episodi più recenti di un processo di deparlamentarizzazione del sistema politico in corso da circa 25 anni, attuato da tutti i governi e determinato da diversi fattori, l'abuso del ricorso a decreti legge, la reiterazione della questione di fiducia, leggi delega, maxi emendamenti, insomma le cose che anch'io vi ho elencato in precedenza. Questo articolo di Luciano Violante sottolinea un punto, io aggiungo un altro punto a quelli sottolineati, io l'ho fatto solamente brevemente, l'articolo è molto lungo e se volete lo trovate su Repubblica, aggiungo un altro fatto che uno dei fattori più sbagliati della risposta che la politica diede alla crisi finanziaria del 2008-2009 fu aver introdotto in Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio. Per questo limitando, tra l'altro, davvero la possibilità di una politica economica espansiva e davvero questa è una delle prime cose cui porre rimedio a livello nazionale e a livello anche europeo in una fase in cui mi pare stiamo finalmente capendo che dobbiamo invece arrivare a delle politiche espansive, fatte di investimenti e a una centralità dei investimenti pubblici che è l'unico modo per poter attrarre dall'altro investimenti privati. Su questo tema della democrazia in crisi da distanza, questo è il titolo, c'è un articolo di Massimo Cacciari sull'Espresso la pandemia ha esaltato i mali storici della politica italiana è urgente una riforma oppure arriverà l'autoritarismo il malfunzionamento della democrazia l'incapacità di essere efficace di dare risposte efficace è uno dei grandi temi ma mai, dico io, mai però ha dispetto, ha disfregio appunto della rappresentanza che è fondamentale sul rischio dell'annullamento dello spazio pubblico ecco, ragiona prende le mosse Massimo Cacciari per un articolo che anche questo riguarda il tema della democrazia ma il tema della democrazia però in realtà si lega alla questione sociale appunto è un nostro pallino e la questione sociale e questo è anche il tema di questi giorni non è solamente la protezione noi abbiamo cercato di tamponare il più possibile abbiamo fatto secondo me efficacemente appunto gli 80 miliardi già stanziati dal governo i 20 che adesso arriveranno però c'è bisogno noi non potremo vivere solamente tamponando abbiamo bisogno che quegli strumenti che evitano la catastrofe nello stretto portino dentro di sé anche già una strategia cioè dei meccanismi che riattivano io penso sarà appunto perché vengo dal territorio manifatturiero alle nostre manifatture alle nostre imprese che non è che potranno vivere con una norma che dice non dovete licenziare perché le nostre piccole imprese andranno avanti e andare avanti vivere è l'unico modo per non licenziare se avranno delle commesse se potranno continuare a vendere ad esportare se riparte la domanda e per fare questo in una concatenazione di fattori che fa il nostro che diciamo tiene insieme il nostro sistema economico che è molto complesso appunto per la sua peculiarità dovuta alle piccole imprese rispetto alla grande alla grande industria e beh però è dovuto quindi ad una serie di misure che siano strutturali cioè che non riguardino solamente un mese due mesi tre mesi no che siano strutturali fiscalità di vantaggio investimenti appunto per investimenti selettivi per alcuni settori industriali per un sostegno all'artigianato che è un valore aggiunto formidabile del nostro Made in Italy che si lega alla cultura al saper fare all'identità territoriale e quindi attraverso tutto questo anche al turismo la sua capacità attrattiva tutte queste cose appunto si tengono se manca lo sviluppo è quello che si chiede Ferdinando Giuliano a proposito su Repubblica a proposito della strategia economica del governo un governo dice che sta rispondendo alla crisi causata dalla pandemia cercando di evitare uno shock di natura temporanea che lo shock di natura temporanea abbia conseguenze permanenti è corretto dice Giuliano ma appunto non può durare a lungo il rischio è trasformare l'Italia in una foresta pietrificata destinata a crollare appena finiranno appunto i soldi per gli aiuti lo Stato deve essere in grado di accompagnare le trasformazioni in atto nella società e di illudersi di poterle arrestare mettere un tappo sul vulcano non vuol dire fermarne l'eruzione già prima della pandemia e qui torna un tema che abbiamo letto nell'articolo iniziale della nostra rassegna già prima della pandemia l'economia italiana stava subendo dei cambiamenti formidabili dalla digitalizzazione dei servizi fino alla conversione di interi comparti manifatturieri il covid-19 accelera queste mutazioni ad esempio la crescita delle piattaforme di vendita online e ne aggiunge delle altre per certi settori come l'organizzazione di eventi il futuro è inevitabilmente incerto negli ultimi tre decenni al netto di rodevoli eccezioni l'Italia ha faticato ad adeguare la sua struttura produttiva in uno studio del 2016 la commissione europea ha mostrato come il rallentamento nella crescita appunto vi ho rimandato a un approfondimento che c'è sull'espresso qui viene risottolineato negli anni 90 è legato all'incapacità di trasferire risorse alle aziende meno efficienti dalle aziende meno efficienti a quelle più innovative e questa transizione rischia di avere costi sociali enormi che non possono essere scaricati passivamente sui lavoratori per questo è più che mai essenziale avere politiche attive del lavoro capaci di formare i disoccupati e aiutarli a ricollocarsi purtroppo l'AMPAL che è l'agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro è completamente allo sbando e il suo presidente Mimmo Parisi il padre dei navigator continua a godere di un'incomprensibile protezione politica da parte del Movimento 5 Stelle se il governo vuole davvero avere un'altra indietro non può continuare a privilegiare uno a discapito di molti ho letto questo articolo anche perché questa sua chiusa finale beh è molto politica e sta su una polemica politica che anche molti dei nostri parlamentari hanno fatto in queste settimane sull'incapacità di AMPAL cioè di questa agenzia che dovrebbe gestire tutta la vicenda dei navigator e quindi del fare in modo che il reddito cosiddetto di cittadinanza non sia una questione meramente assistenzialista che poi è in realtà la critica che è sempre fatto a questo strumento che voglio ricordarlo costa al nostro paese più di 10 miliardi ma in realtà aiuti a creare lavoro e quindi non lasci le persone dentro casa punto è brutto dirlo però se appunto non ci sono politiche attive per il lavoro è il rischio che c'è ma aiuti invece a trovare un nuovo lavoro e quindi a dare dinamismo al mercato del lavoro questo non avviene perché questa agenzia non sta funzionando abbiamo chiesto le dimissioni di questo presidente ma è difeso dalla ministra del lavoro Nunzia Catalfo dei Cinque Stelle e dai Grillini perché questo presidente è molto legato a Luigi Di Maio tutte queste cose ci vengono spiegate oggi da un articolo di un giornalista importante che si chiama Sergio Rizzo c'è un articolo che io adesso non vi leggo per brevità ma ve lo cito lo trovate sempre su Repubblica che è dedicato proprio non solo ad un identikit di questo presidente di Ampal Domenico Parisi l'incapacità di Ampal di funzionare ma il fatto tra l'altro che Domenico Parisi faccia parlare molto di sé ecco questo sì per una serie di atteggiamenti molto poco frugali che ha e molto invece legati a privilegi questo articolo parla di un appartamento che questo presidente di Ampal reclama ma comunque se volete lo trovate lo trovate Sergio Rizzo su Repubblica a proposito dei 5 Stelle Massimiliano Panarari sull'espresso del Movimento 5 Stelle resta solamente il potere esiste in politica una spinta più potente di quella fornita dall'ideologia apre il suo pezzo Massimiliano Panarari che è un analista molto attento della comunicazione politica delle forme della politica e scrive per diversi giornali la stampa e l'espresso e insomma è sempre molto interessante esiste in politica comincia una spinta più potente di quella fornita dall'ideologia si chiama governismo ed è una forza gravitazionale irresistibile a cui nessuno riesce a sottrarsi fosse anche il più antisistemico dei partiti movimenti quello che tramite uno dei suoi due fondatori aveva annunciato Urbi e Torbi che avrebbe aperto il Parlamento un problema di connessione spero che in realtà spero che in realtà si veda anche perché io con questa modalità adesso non riscontro sto leggendo Massimiliano Panarari che si riferisce appunto ai 5 stelle che da che appunto dopo aver declarato l'apertura del Parlamento come una scatoletta di tonno è entrato nella sfera gravitazionale dell'occupazione a prescindere del palazzo e e e e quindi e quindi e per il movimento 5 stelle dice Panarari il centro di gravità permanente corrisponde al governismo che lo radica e lo ancora rispetto ai numerosi sbandamenti e gli consente di mitigare le giravolte più marchiane davanti ai militanti duri e puri in nome di una finalità superiore appunto quella del governismo una traiettoria personale sintetizzata appunto dalla vicenda di Giuseppe Conte che sintetizza in maniera compiuta la parabola del movimento 5 stelle nel governismo a tutti i costi il camaleontismo grillino si intreccia con l'ascesa del camaleconte in parte la genera e in parte ne è guidato e diretto l'ex avvocato del popolo è l'incarnazione perfetta di questa formula dice massimiliano panarari riferendosi ai maggiorenti pentastellati ma dopo questo articolo di panarari sul governismo come unica come diciamo ragione non l'unica perché questo è ingiusto dirlo ma come dice panarari ragione più forte dei 5 stelle però poi veniamo invece ad una parte politica che riguarda il partito democratico c'è un dibattito nel PD che è stato alimentato qualche giorno fa da un'intervista molto dura di Giorgio Gori oggi c'è un'intervista a Stefano Bonaccini il presidente della regione Emilia Romagna che dice ci vuole un partito democratico più robusto e dice anche Stefano Bonaccini mai subalterni ai 5 stelle i fondi della sanità legati al MES vanno presi subito per parlare con le persone bisogna stare nei bar nelle fabbriche nelle imprese aprirsi alle energie del civismo in questa intervista a Bonaccini che fa Silvia Bignami su Repubblica Bonaccini chiede appunto un partito democratico più robusto più aperto che non sia subalterno a nessuno con un'identità più forte e marcata basata su idee chiare e riconoscibili con un gruppo dirigente aperto a ciò che di meglio la società offre penso agli amministratori locali il PD ne ha tanti ma anche a donne e uomini che magari non si riconoscono nel partito ma che sarebbero disposti a impegnarsi per pensare un paese nuovo un PD che si costruisce entrando anche nei bar per provare a dare risposte ad ascoltare entrando nelle fabbriche nei centri di ricerca nelle imprese agricole nelle università nelle scuole nei presidi di lavoratori in lotta fuori dalla propria azienda a proposito a proposito di università a proposito di scuola è stata questa la settimana di una manifestazione molto importante per la scuola organizzata in più di 60 60 città che appunto vuole incalzare il governo e anche la settimana delle famose linee guida all'inizio molto caotiche che poi sono state perfezionate e anche finalmente la settimana in cui il governo Conte ha il presidente Conte ha annunciato un miliardo in più per la scuola e questo è molto importante forse un miliardo non è ancora sufficiente ma è comunque molto importante e io penso che questo abbia a che fare anche con la nostra battaglia sulla scuola il fatto appunto che abbiamo chiesto che la scuola pubblica abbia subito risorse prendendole dallo scostamento di bilancio dai fondi europei 5 miliardi è quello che servirebbe subito per ridurre a 20 il numero degli alunni in classe per aumentare l'organico per stabilizzare i docenti precari il precariato che mortifica la qualità della docenza la capacità di fare insegnamento un sistema che alimenta un precariato che invece andrebbe contrastare perché è nemico in particolare di quei bisogni di studenti a cui prima facevo riferimento c'è un'intervista su Repubblica che è richiamata anche in prima pagina ad una preside la preside si chiama Gilda Tortora del liceo classico Michelangelo di Firenze che dice rivolta al governo non lasciateci soli così non siamo in grado di riaprire a settembre sono pronta a restituire le chiavi dell'istituto in queste condizioni non siamo in grado di riaprire non possiamo assumerci noi questa responsabilità c'è il tema appunto delle aule della mancanza di spazi e c'è il tema appunto del sostegno in realtà agli studenti e dei fondi da spendere per soluzioni che verranno spese per soluzioni temporanee mentre dice la preside avrebbero potuto coprire interventi strutturali ecco il tema fondamentale degli interventi strutturali che aspettiamo da anni come il rifacimento degli impianti elettrici o dei bagni ma questo tema degli investimenti strutturali è il tema della scuola di non tornare alla scuola di prima con le cose che prima abbiamo visto in questi mesi di blocco non funzionavano e non funzionano ed avere invece una riforma strutturale della scuola ripensarla strutturalmente perché oggi non è in grado di includere i ragazzi che sono più deboli che non ce la fanno una famiglia forte che non ci hanno risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle della scuola per andare avanti e su questo c'è un articolo di un quotidiano di un quotidiano che è molto interessante che si chiama quotidiano del sud dell'altra voce dell'Italia è difficile da trovare in edicola ma insomma c'è in rassegna ed è molto interessante e si intitola Azzolina è la classe che non esiste in realtà fa riferimento ad una uscita sicuramente infelice l'altro giorno in conferenza stampa della ministra Azzolina che ha citato una scuola scampia che sta in un appartamento in realtà in realtà questa scuola non c'è non c'è è intervenuto poi appunto il dirigente scolastico correggendo la ministra dicendo no guarda ministra in realtà la nostra è un'esperienza in un quartiere difficilissimo appunto scampia un quartiere simbolo del degrado dell'assenza dello Stato dell'emergenza legata allo spaccio alla criminalità organizzata che gestisce in questo caso la camorra che gestisce le piazze di spaccio a scampia quindi l'abbandono scolastico insomma un grande tema che è appunto emblema del nostro paese e di dove invece il PD dovrebbe stare per riprendere il radicamento e questa frase appunto infelice della ministra a cui ha risposto il dirigente scolastico invitando tra l'altro la ministra a visitare questa struttura e la ministra ieri si è scusata dicendo che andrà e da questo parte quest'articolo di Giovanna Gucci dicendo alla ministra azzolina converrebbe come annunciato appunto lei stessa cercando di recuperare quell'uscita mettersi in viaggio per conoscere da vicino di cosa si parla quando si parla di scuola a partire da quella inesistente che lei aveva collocato dentro un appartamento di scampia il quartiere delle vela a Napoli dove c'è invece appunto dice l'articolo uno dei migliori istituti tecnici intitolato al piemontese Galileo Ferraris che l'ha invitata appunto per rendersi conto di una realtà che in un quartiere difficilissimo è invece una realtà modello vada continua l'articolo a vedere le scuole ad altissimo rischio sismico della Calabria e aggiungo io non solo della Calabria dove meno della metà dei edifici scolastici è in possesso del semplice collaudo che si fa qualunque ascensore prima che entri in funzione ma anche in qualche istituto del nord dove si muore per mancate riparazioni da quattro soldi e qui viene citata la tragedia del 2008 a Rivoli dove il crollo di un controsoffitto per un risparmio pazzesco assurdo di 500.000 lire ha ucciso Vito Scafidi e c'è qui la denuncia e il racconto straziante in questo articolo della mamma di Vito sicurezza per gli edifici che viene reclamata ma in questo articolo appunto soprattutto viene reclamata l'urgenza del fatto che un milione 137.000 minori vivono in povertà assoluta con percentuali doppie a mezzogiorno rispetto al resto d'Italia e questo porta soprattutto nelle cosiddette aree interne dei paesi che non stanno solo a mezzogiorno d'Italia ma sappiamo anche nelle nostre regioni appunto a un ritardo ad una dispersione su questo ritardo del governo sulla scuola appunto questo articolo insiste molto però dobbiamo chiudere allora su avvenire il Mondragone che cosa succede a Mondragone chi sono i bulgari di Mondragone ammassati sfruttati senza diritti senza giustizia che sono stati scoperti anche qui grazie alle tante emergenze che il covid ha fatto emergere che c'erano seminascoste di cui si è fatto finta di nulla li si è voluti ignorare ma insomma una vicenda pesantissima di caporalato i furgoni di caporali parcheggiati all'alba sotto i palazzoni per caricare gli schiavi del pomodoro e poi però anche il caporalato che dallo schiavismo legato al bracciantato agricolo diventa poi con gli stessi caporali che sfruttano le stesse persone per appunto il bracciantato le sfruttano per il mercato della prostituzione e a pochissimi chilometri da Mondragone a Pesco Pagano uno dei tanti non luoghi di questo territorio la sera del 25 aprile 1990 un commando di camorristi guidato da Augusto Latour e boss di Mondragone uccise cinque persone quattro erano immigrati strage per affari di droga ma molte delle vittime non c'entravano per nulla i killer vennero condannati con l'aggravante razzista ma la devianza le delinquenze sono tutt'oggi manovalanze di criminali locali e a questo appunto fa riferimento alla piaga del caporalato al tema della regolarizzazione urgentissima dei migranti per cancellare appunto l'ignominia di uno sfruttamento che è tollerato che è coperto che è negato e ecco questo intervento appunto fa riferimento a questo che è oggi l'articolo di fondo di avvenire su avvenire c'è un articolo di nello scavo nello scavo l'abbiamo letto molto in queste domeniche perché è uno dei giornalisti di inchiesta più importanti del nostro paese è un giornalista di avvenire è il giornalista a cui dobbiamo le inchieste italiane che si collegano alle inchieste dei magistrati della Corte di Giustizia Europea del Consiglio d'Europa alle inchieste dei funzionari dell'ONU sulla complicità della Guardia Costiera Libica nel traffico di esseri umani la complicità dei capi soprattutto uno il famigerato cosiddetto Bija appunto uno dei capi della Guardia Costiera Libica nei crimini contro l'umanità che hanno nella detenzione illegale nei campi libici dei migranti che si assommano a migliaia arrivando da tutto il corno d'Africa da tutto il Sahel che appunto in Libia vengono concentrati detenuti schiavizzati e per questo noi stiamo chiedendo con forza che non ci sia nelle missioni che l'Italia fa nel Mediterraneo alcun soldo italiano alla Guardia Costiera Libica perché è sbagliato che l'Italia come è stato fatto in realtà fin dal 2017 con il famoso memorandum che proprio nello scavo ha contribuito diciamo a a far capire quanto in realtà abbia permesso poi comunque ai libici di avere un contesto diciamo in qualche modo che gli ha permesso di continuare senza in qualche modo che gli ha permesso di gestire l'immigrazione in un tratto di mare quello del Mar Libico ma siccome la Libia non è un porto sicuro siccome i centri di detenzione libici per migranti in realtà sono dei lager questo lo hanno detto tutte le inchieste e noi dobbiamo in realtà impedire che la Libia che è un paese che non ha mai sottoscritto i trattati internazionali sulla protezione dei migranti a partire da quello di Ginevra nel 1951 gestisca i flussi migratori i flussi migratori devono essere gestiti dall'Europa da delle emissioni internazionali questo abbiamo chiederemo che non di non stralciare dalle emissioni i finanziamenti che riguardano la cosiddetta appunto guardia costiera libica l'abbiamo chiesto nella direzione del PD dell'altro ieri di venerdì scorso continueremo a farlo con grande forza così come abbiamo denunciato il fallimento di quel cosiddetto memorandum tra Italia e Libia su questo più volte ha fatto le sue inchieste scavo oggi il suo articolo su avvenire a tutta pagina molto importante si intitola nato sul barcone si riferisce a un bambino che è nato su un barcone ma poi è stato immediatamente portato in prigione cioè è stato riportato in Libia cioè in realtà è un'inchiesta su un caso molto strano per cui un barcone partito dalla Libia anziché anziché essere soccorso dalla marina militare italiana o di Malta è stato lasciato soccorrere ai libici che lo hanno appunto hanno riportato tutti quanti dopo in realtà aver aspettato molto tempo per intervenire nei centri di detenzione con tutto quello che questo significa tra l'altro evitare che siano i libici a gestire i flussi dei migranti ma fare in modo che siano l'ONG o comunque i governi europei in una missione internazionale sotto legge di una missione internazionale permette anche di controllare questi flussi così come noi diciamo che vanno cambiati i decreti di sicurezza perché tengono migliaia di persone fuori dal controllo da un controllo sanitario ad esempio in questo tempo di Covid ma devo accelerare per chiudere da qui a qualche minuto c'è un articolo un reportage in realtà di un intellettuale francese europeo molto importante Bernard Henri Lévy su Lesbo l'isola l'isola appunto che sta sulla rotta migratoria che riguarda la Grecia e Lesbo dove i bambini si suicidano un reportage drammatico veramente veramente terrificante bambini trattati come animali e racconta la storia come quella di Fatima sudanese tre figli che ha partorito l'ultimo figlio sulla plastica di una tenda rischiando di morire di morire dissanguata e una bambina dodicenne che chiede a voce alta perché restiamo giorni interi a non fare niente poi ha usato lamette di rasoio per tagliarsi i polsi noi sappiamo che sono tantissimi questo lo dicono i documenti dell'organizzazione delle Nazioni Unite dell'OMI l'organizzazione internazionale sulle migrazioni dell'UNHCR sono tantissimi casi di autolesionismo dei bambini che vivono una tortura psichica indotta da uno stato di indigenza che è terrificante che comunque ci riguarda ci riguarda enormemente e appunto dice Henri Henri Lévy ci riguarda l'inferno di Lesbo donne uomini bambini che imputridiscono in questo carcere a cielo aperto il cui solo crimine è di aver sognato l'Europa devono essere accolti tra noi lancio un'umile supplica a queste donne e uomini di Stato che di fronte all'abominio di questa discarica di esseri umani che abbiamo lasciato prosperare non hanno più il diritto di perdersi in discussioni interminabili sull'effetto delle loro politiche di fronte all'urgenza al simbolo vivente che sono questi pellegrini d'Europa trattati come appestati c'è il dovere dell'Europa per questo è stato inventato il dovere di cancellare la macchia sulla bandiera stellata e di fare un'eccezione con questo articolo di Henri Lévy noi arriviamo a citare gli ultimi due articoli di questa rassegna stampa uno richiama un dramma della nostra storia quello di Ustica ieri era il 27 di giugno il 27 giugno del 1980 mentre sorvolava l'isola di Ustica un 19 dell'Italia precipitò abbiamo poi scoperto negli anni in virtù soprattutto della luce che è dovuta all'indagine del magistrato Rosario Priore che l'aereo venne abbattuto ma non c'è ancora una verità che regga sulle cause di quell'abbattimento di quel missile di cui hanno parlato appunto le inchieste guidate da Rosario Priore se quel missile fosse dovuto ad una guerra aerea tra i cieli o altri motivi e chi siano stati i mandanti molti sono stati i paesi chiamati in causa addirittura dei paesi anche alleati si è parlato della guerra tra i libici gli statunitensi i francesi si è parlato di una questione medio orientale insomma la verità ieri è stata chiesta gran voce dal presidente Mattarella che ha parlato di ferita ancora aperta e oggi voglio citare un articolo del Corriere della Sera ustica i volti mai visti della tragedia c'è una pagina che è pagina 19 dove campeggia non solo la foto del relitto del 19 la cui Carlinga è conservata in un hangar a Bologna ed è un monumento alle vittime ma le foto di tutte le vittime oggi campeggiano le foto delle 81 vittime oggi campeggiano su una pagina del Corriere della Sera ed è una pagina molto forte 77 furono i passaggieri 81 le vittime totali molto forte e molto importante perché sono vittime che vanno ricordate il dolore dei familiari delle 81 vittime che è un dolore nazionale non è un dolore privato è un dolore che ci riguarda tutti e la verità ci riguarda tutti così come tutti ci riguarda la verità che dobbiamo reclamare per Giulio Reggeni per questo abbiamo ottenuto che la direzione del PD impegni il Partito Democratico è una delle ragioni di un nostro ordine del giorno che è stato assunto di fatto all'unanimità in un ordine del giorno più complessivo che impegna il Partito Democratico a chiedere subito al governo di ridiscutere l'accordo commerciale che prevede venditura di forniture militare all'Egitto se non c'è immediatamente chiarezza su verità su quello che è accaduto appunto a Giulio su chi sono i colpevoli della tortura di Giulio Reggeni dell'uccisione di Giulio Reggeni che coinvolge pesantissimamente gli apparati dei servizi di sicurezza dello Stato egiziano così come abbiamo chiesto con forza che venga scarcerato Patrizaki il ricercatore studente di un master sui diritti civili a Bologna incarcerato al Cairo da febbraio oggi i giornali parlano del governo egiziano che è pronto a scarcerare 530 degli oltre 60.000 prigionieri politici che ci sono in Egitto e delle azioni importanti che il governo italiano sta portando avanti per fare in modo che tra quei 530 ci sia anche Patrick Zaki e noi davvero lo lo auspichiamo lo continuiamo a chiedere a chiedere a gran voce e così come appunto verità e giustizia per Giulio per Giulio Reggeni mai la politica estera di un paese può entrare in contraddizione con i nostri valori quelli della nostra Costituzione del nostro Stato di diritto perché altrimenti si perde l'autorevolezza la reputazione si viene trattati da opportunisti e però si perde l'autorevolezza e la reputazione che è l'unico modo per essere una potenza in politica estera a livello internazionale il manifesto apre oggi con una prima pagina dedicata ai lavoratori dello spettacolo che sono tra quelli che più stanno pagando la crisi sono lavoratori soprattutto intermittenti sono fondamentali non solo per l'economia del nostro paese ma per il pensiero per il fare comunità che sta in un teatro in uno spettacolo aperto nel far vivere attraverso appunto una lettura uno spettacolo una piazza un borgo un vicolo soprattutto in questa estate così complicata che stiamo vivendo ai diritti dei lavoratori dello spettacolo che è un pezzo importante della nostra iniziativa politica noi stiamo chiedendo che anche qui non si torni alla cultura di prima ma invece ci siano finalmente per il lavoro di loro dello spettacolo un welfare che permetta loro di avere quella protezione quella indennità di malattia quella indennità di malattia che non hanno poter avere una pensione un domani di cui oggi non c'è traccia insomma considerarli dare loro dei diritti come dei lavoratori di serie A perché perché fanno tantissimo per il nostro paese cioè su questo la prima pagina del manifesto ma chiudiamo oggi questa nostra rassegna stampa e questo ciclo di rassegna stampa che abbiamo cominciato appunto il 21 di marzo con un'intervista su Avvenire a Donciotti è un titolo molto bello anche letterario però molto politico e l'amore non basta per rialzarsi serve giustizia e no l'amore non basta per occuparsi degli altri è una base troppo fragile strano per la parola più scontata quella che mette d'accordo tutti l'amore è indiscutibilmente una cosa bella ma scontato non è mai e l'amore non basta è il titolo dell'ultimo libro di Don Luigi Ciotti per ribadire che occorre invece il sentimento di giustizia ossia quel sentire sulla pelle le ferite degli altri che impedisce l'indifferenza il giudizio e il pregiudizio ecco con queste parole di Don Ciotti che però sono parole nostre le abbiamo le abbiamo tante volte dette con forza spero che si sia sentita questa questa forza questa questa tensione questo impegno in queste nostre domeniche occorre il sentimento di giustizia occorre quel sentire sulla pelle le ferite degli altri che impedisce l'indifferenza il giudizio e il pregiudizio ecco con queste parole che racchiudono anche il senso del nostro impegno politico delle battaglie che stiamo facendo chiudiamo questa nostra rassegna stampa quest'oggi 28 giugno spero che queste nostre domeniche insieme siano valse a qualcosa grazie per la partecipazione per per i messaggi per lo scambio che tante volte è continuato anche fuori dai social fuori dalla rete e che continuerà in tante iniziative politiche e proveremo a riprendere queste nostre domeniche questo esperimento anche di stare insieme con la rassegna stampa con leggendo i giornali con un po' di pensieri e ragionamenti da fare insieme a settembre e quindi un grande abbraccio grazie ancora a prestissimo grazie a tutti